gentili telespettatori buona giornata ci sarebbe la data dello spostamento in avanti dell'ora di chiusura notturna dalle 22 alle 23 o almeno le indiscrezioni danno proprio una data che sarebbe quella del 17 di maggio quindi passa la linea di matteo salvini un trionfo una vittoria ho sentito così trionfo di salvini dal 17 maggio si sposta alle 23 le chiusure ma realmente possiamo parlare di un trionfo di salvini veramente spostare dalle 22 alle 23 il 17 di maggio oggi siamo al 23 e vuol dire tra 17 più altri 7 giorni tra 24 giorni tra 24 giorni spostare alle 23 possa definirsi una vittoria ma non lo so ho i miei dubbi magari qualcuno di voi può dire una vittoria altri possono dire forse una vittoria a metà a tre quarti ma se da un lato draghi non ha ceduto nell'ultimo decreto a matteo salvini al suo pressing sulla posticipazione dalle 22 alle 23 il 14 maggio quando ci sarà palazzo chigi il primo appuntamento per valutare gli effetti delle riaperture perché attenzione adesso praticamente quasi tutte le regioni vanno in zona gialla ci saranno delle semi riaperture insomma passa il messaggio che si va verso l'uscita del tunnel cosa succederà con i contagi abbiamo visto che ne ha in altri paesi i contagi sono risaliti nonostante le vaccinazioni fossero veramente alte ne avessero fatte veramente tante vedremo quello che succederà ma il 14 di maggio comunque fra oltre 20 giorni ci sarà una nuova riunione del del governo per decidere che cosa è successo e che cosa si può fare da lì in poi quindi primo appuntamento per valutare delle riaperture draghi potrebbe far passare la linea salviniana e quindi potrebbe ritoccare la norma spostando dal 17 o dalla settimana successiva il 24 cioè fra praticamente un mese e un giorno far passare l'orario alle 23 per poi nella prima metà di giugno posticiparlo alle 24 cioè le 24 non esiste molti scrivono alle 24 nei giornali ma insomma le 24 non esistono esiste la mezzanotte dopo le 11 e 59 o le 23 e 59 c'è mezzanotte non ci sono le 24 c'è mezzanotte mezzanotte 5 mezzanotte 10 mezzanotte mezza non ci sono le 24 poi dicevamo dal 24 maggio alle 23 prima metà di giugno a mezzanotte fino a toglierlo del tutto a partire da luglio secondo quanto riporta un retroscena di la repubblica insomma salvini potrebbe presto incassare la sua rivincita sul ministro della salute roberto speranza però in questo momento dove ogni giorno chiudono centinaia di attività per mancanza di clienti per non poter riaprire possiamo dire realmente che aprire tra un mese cioè non aprire spostare dalle 22 alle 23 tra un mese possa definirsi la rivincita di salvini sul ministro della salute roberto speranza insomma ho un po di dubbi che questa si possa essere definita una rivincita del resto draghi lo ha detto chiaramente ai suoi interlocutori non posso parlare di rischio ragionato e poi ignorarlo è una questione di serietà e di parola data all'opinione pubblica basterà questo a matteo salvini che dirà sulla mozione di sfiducia a speranza beh salvini ha già detto che il partito si asterrà però sa che l'elettorato una parte dell'elettorato di della lega non non vuol non vuol comprendere la mossa di salvini di dire non voto la sfiducia a speranza di sicuro da parte di draghi c'è la necessità che tutti rispettino gli accordi presi soprattutto in un governo di unità nazionale il presidente del consiglio lavora a fianco con giancarlo giorgetti forse dice sempre il quotidiano la repubblica è ancora più aperturista di matteo salvini il premier ha deciso di impostare un rapporto chiaro con il leader della lega che non può prescindere da un elemento fondamentale non è il momento di piantare bandierini di partito seppur legittime per il bene del paese questa sarebbe la linea di draghi capisco che la lega ha bisogno di fare questo per l'elettorato e però non è il momento di di mettere la bandierina vittoria ho vinto io ha perso l'altro perché attenzione i partiti in questo momento stanno già facendo campagna elettorale per le elezioni perché draghi fra poco finirà le cose per cui è stato chiamato il recovery plan è quasi pronto le vaccinazioni sono avviate si sta adesso riaprendo gradualmente l'italia anche se secondo me il ritardo il coprifuoco notturno andava cancellato secondo me si doveva cancellare il coprifuoco notturno e lasciare le scuole chiuse fino ormai a fine a giugno quando finiscono le scuole ormai non era il caso di mandare i ragazzi le ragazze a scuola con i mezzi pubblici affollati non ha nessun senso quello dovevano lasciare le scuole chiuse togliere questa cosa serale del coprifuoco e permettere i pranzi anche al chiuso ai ristoranti non solo all'aperto ecco secondo me questo doveva essere le riaperture la scuola e i mezzi i mezzi pubblici andrebbero chiusi fin quando il governo non ha i soldi per comprare autobus vagoni del treno vagoni delle metropolitane fin quando non ha questi soldi o non li vuole trovare perché fai bonus bicicletta i mezzi pubblici andavano fermati ma le persone come vanno a lavorare e lo so se lo stato però non è in grado di far funzionare bene una metropolitana la metropolitana si chiude mi spiace si andrà a piedi e questa è la realtà invece i bar e i ristoranti la sera con tutte le norme di sicurezza potevano comunque essere aperti almeno questa è la mia opinione io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti al prossimo video grazie? grazie a tutti